Ed eccoci qua di nuovo insieme, siamo all'appuntamento con la Rassegna Stampa, come ogni martedì abbiamo ospite nei nostri studi Gaetano Alaimo, direttore di Newtusha.it, buongiorno. Buongiorno Gioia, un saluto a tutti i radioascoltatori a casa. Bene, partiamo subito con notizia che è uscita ieri, si parla di una minore di 12 anni che in pratica ha fatto una serie di furti, è stata presa, portata in casa famiglia e poi di nuovo è fuggita, fin quando poi la questura di Viterbo ha appurato che lei era in contatto con la madre e che quindi la madre praticamente la sfruttava. Sì, hai detto praticamente il più tu, è un'azione coordinata, una delle tante, in questo caso sicuramente non la più difficile, però sicuramente dei colpi che aveva messo a segno questa minorenne ormai se ne parlava da tempo. Nel gennaio scorso, appunto dopo aver caricato un carrello, si legge nel comunicato della polizia, di prodotti cosmetici per l'importo di 4.000 euro, per eludere il sistema antitaccheggio tentava di farlo passare da un varco non controllato e quindi tutta una serie di colpi che poi hanno portato a delle indagini immediate da parte della squadra mobile di Viterbo che sono state effettuate anche con la disamina del nominativo attraverso i schedari elettronici che appunto la polizia e la squadra mobile hanno a disposizione. Dal monitoraggio dei contatti telefonici della minorenne emergeva soprattutto, si legge, che in concomitanza con tutti gli episodi direttuosi e avvenuti a Viterbo, nonché con tutte le volte che la bambina si era allontanata arbitrariamente dalle case famiglie, appunto era stata poi con la mamma che faceva di fatto da copertura queste azioni, erano arrivate poi una serie di colpi che avevano portato a segno appunto diversi furti. L'approfondimento investigativo degli uomini della polizia di stato e della squadra mobile faceva quindi emergere la chiara complicità dell'adulta negli episodi sopra descritti. Quindi veniva redatta pertanto una dettagliata informativa di reato e che portava alla scoperta appunto e al fermo per denuncia appunto che essendo minorenne la ragazza di questa persona. Allora, adesso cambiamo completamente argomento. Dunque il 31 marzo manifesta il comitato pendolari Orte appunto sempre in merito alla soppressione della fermata di Orte. Sì, è una situazione ormai infinita, avevamo alternato circa un anno e mezzo fa delle notizie molto negative e poi le notizie improvvisamente positive che avevano portato al recupero di due corse con l'accordo tra Regione Umbria e Regione Lazio. Sicuramente era stata un'azione molto positiva di sinergia tra il comune di Orte e il comitato dei pendolari. Ricordiamo che lo stesso sindaco di Orte Polo si era messo insieme ai manifestanti ed uttenne appunto questa reintroduzione delle due corse. Invece da notizie abbastanza fondate sembra che si parla come se fosse un pesce d'aprile, purtroppo sembra che non lo è. Dal primo aprile la corsa delle 18.16 da Roma Termini in direzione nord non farà più la fermata di Orte. Quindi è stata convocata d'urgenza anche nell'emittente dove io faccio la trasmissione abbiamo intervistato il presidente del comitato pendolari per il 31 marzo alle ore 18.40, marciapiede e binario 1 che non a caso è l'orario in cui il treno passerebbe da Torte. Quindi si preannuncia una mobilitazione ancora una volta di massa, probabilmente ci risarà il comune di Orte insieme a fianco del comitato pendolari. La notizia lascia un po' sbigottiti non solo i pendolari ma anche noi operatori dell'informazione in quanto abbiamo avuto più volte segnalazioni che si creerebbero delle enormi sovraccarico di persone nei vagoni quindi come se fosse la tuscia nuovamente non considerata. Quindi una storia infinita, vedremo sia i parlamentari soprattutto i consiglieri regionali che ne hanno competenza della provincia di Viterbo interverranno anche in questo caso. Io mi sento di spingere i nostri consiglieri regionali di far valorizzare questa nostra città anche tramite e soprattutto i collegamenti con Roma perché veramente siamo in una situazione disastrata chi fa il pendolare lo sa, non c'è un giorno in cui non accade un problema, ne parliamo sempre, tutti i giorni ci troviamo qui a dover dire che vivono una situazione stressante. Talvolta Roma-Viterbo, Viterbo-Roma ci vogliono 4-5 ore ed è insostenibile, chi lo fa tutti i giorni immaginiamo quanto sia problematico. Sì, ho un inciso come dico sempre, per concludere c'è stata la polemica sui tutor per i oltre 3 milioni di euro dell'appalto e non ci sono i soldi per il rifacimento delle strade. La stessa identica attenzione deve essere messa per il binario, per la tratta ferrata perché non ci scordiamo che migliaia e migliaia di pendolari non solo dalla provincia di Viterbo ma anche dalla bassissima Umbria vengono ad orte, quindi è un danno anche per la stessa regione Umbria. Cambiamo ancora di nuovo situazione e parliamo del complesso della Trinità, sabato e domenica è stata la giornata del FAI e tu hai qualcosa da dirci in merito a Viterbo Civica e il FAI? Sì, allora mettiamo insieme lo stesso oggetto di notizia con due risvolti, sia i volontari del FAI e non ci scordiamo anche la protezione civile di Viterbo che è intervenuta per garantire la sicurezza di tantissime persone che appunto hanno affollato la chiesa della Trinità di Viterbo. Viterbo Civica è un movimento che appunto si definisce non politico, comunque sicuramente ha dei risvolti politici di azione sul territorio, è uscito anche esso nelle stesse ore con un comunicato con il quale interviene contemporaneamente appunto con i volontari del FAI per cercare di invogliare le istituzioni a intervenire, hanno pubblicato, abbiamo pubblicato anche noi determinate foto che danno l'idea dell'incuria da tutti i punti di vista, sia sulla parte esterna, quindi sulla facciata sia alcune operazioni mai avviate sulle pitture che ci sono e sugli affreschi delle pareti della chiesa, la proposta che è stata fatta da Viterbo Civica è quella di fare un cantiere scuola con la ex facoltà di beni culturali per poter avviare perlomeno il restauro delle maggiori pitture, quindi questa è una proposta fattibile a mio giudizio, sempre a mio giudizio questo probabilmente non risolve un problema che ammonte, abbiamo dei beni artistici e architettonici a Viterbo Unici, ricordo anche i complessi delle tombe etrusche eccetera, andrebbero non solo valorizzate ma bisognerebbe proprio lavorare con un piano approfondito per partire quasi se non da zero quasi. Allora, adesso parliamo di nuove assunzioni, parliamo di incentivi appunto per le nuove assunzioni, se ne parla a Viterbo. Sì, è un importante incontro dal titolo Focus Garanzia Giovani Guida agli incentivi all'assunzione, è l'incontro che è stato promosso da un'industria che si svolgerà venerdì 27 marzo a partire dalle ore 14 presso la sala del consiglio della Camera di Commercio di Viterbo in via Fratelli Rosselli numero 4. Parteciperanno il padrone di casa sia come presidente di un'industria ma anche come presidente della Camera di Commercio Domenico Merlani e Lucia Valente che è assessore al lavoro della Regione Lazio. Si legge durante la giornata saranno approfondite le recenti novità introdotte con la legge di stabilità al fine di fornire una panoramica completa di tutte le agevolazioni e gli incentivi di cui le imprese possono fruire in caso di nuove assunzioni. L'incontro è organizzato in attuazione del protocollo sottoscritto da un'industria lo scorso 30 dicembre con la Regione Lazio, le province di Roma, Riete, Viterbo, Frosinone e Latina che poi sono rappresentate complessivamente da un'industria e a tal fine si stanno organizzando un road show di approfondimento presso tutte le sedi territoriali. Per fare un commento è una iniziativa importante in quanto la situazione occupazionale sappiamo tutti ormai è drammatica, non solo settorialmente soprattutto dal punto di vista dell'occupazione giovanile ma in particolare delle aziende che chiudono, ormai un'emorregia inarrestabile, le istituzioni si sono rese conto che bisogna intervenire non con programmazioni artificiose ma con incentivi anche minimi per poter fare perlomeno restare sul mercato le stesse piccole e medie imprese. Quindi benvenga l'azione di un'industria, quindi il Presidente Merlani sia nella funzione appunto di Presidente ancora di un'industria e di Presidente della Camera di Commercio che ha competenza appunto nel sistema di rete di imprese e speriamo che trovino delle idee e possano portare a un minimo di risultato. I dati sono ancora negativi, c'è qualche segnale a livello nazionale sul PIL sembra, si parla non di dati negativi ma di un leggerissimo più 0,1 ma sono dati che non fanno congiuntura. Allora, la Pasqua si avvicina e c'è stata un'iniziativa proprio nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, degustando la Pasqua, una bella organizzazione da parte di Confartigianato Impresa Viterbo insieme a Slow Food, tante iniziative non solo, diciamo così, mangerecce ma anche con incontri con bambini per far vedere come si preparano le pizze di Pasqua, laboratori, è stato veramente un attripodio di pubblico che ha apprezzato questa manifestazione che ormai credo sia la terza, la seconda o la terza edizione. Sì, allora, semplicemente un commento, è una delle manifestazioni che io personalmente ritengo molto positive perché rilanciano l'artigianato, io dico del buon mangiare, l'artigianato artistico delle opere appunto legate alla Pasqua sia dal cioccolato ma anche una modalità di fare comunità. come dicevi giustamente hanno legato, appunto Confartigianato Impresa Viterbo e Slow Food che racchiude anche indirettamente la stessa Camera di Commercio una serie di iniziative che tendono da un punto di vista dell'artigianato di questo settore a promuovere tutte le particolarità sia nomi importanti, ricordo uno su tutti i Casantini che è rinomato ma anche altre realtà del territorio e poi da un punto di vista... La Proloco di Bagnaia con le sue pizze... E la Proloco di Bagnaia, assolutamente, non per seconda ovviamente e il Panificio Biscetti, ci sono tutta una serie di nomi che fanno rima con Viterbo, Bagnaia, la Tuscia vicino a Viterbo, io aggiungerei un modo per fare, come diciamo spesso, riportare l'attenzione sul centro storico di Viterbo, magari una programmazione mirata su iniziative tutto l'anno che possano prendere sia quelle che sono in essere ma anche quelle da creare perché creare un continuum di queste manifestazioni sarebbe auspicabile. Ma anche le sinergie, creare queste sinergie, queste collaborazioni che uno non può combattere da solo, una battaglia insieme, insomma sicuramente si trovano delle formule vincenti. Adesso abbiamo mangiato, bisogna fare anche un po' di sport. Parliamo del centro civico sportivo che sono stati avviati, i lavori appunto a Santa Barbara. Sì, rapidamente sono stati avviati i lavori per la realizzazione del centro civico sportivo nel quartiere Santa Barbara, ne dà notizia il comune di Viterbo nella persona dell'assessore competente Alvaro Ricci, appunto si parla del 19 marzo in cui sono stati consegnati i lavori alla ditta che si è giudicata all'appalto per un importo di 470 mila euro. Alvaro Ricci appunto è raggiante in quanto in un periodo in cui ci sono grosse polemiche sugli appalti pubblici, a livello provinciale tutti ricordano la polemica sui tutor e quindi la necessità di fare questo appalto. Gli impianti sportivi sono un'altra realtà che avvita Erbolangue sicuramente. Quindi il centro civico sportivo è una notizia importante, sorgerà nella zona dedicata a servizi di quartiere, così come previsto dal piano urbanistico e quindi del tutto in linea con le previsioni originali dell'area. Quindi una notizia importante e speriamo che non ci siano i toppi. Prima di passare allo sport però dici due parole sulla serata che c'è stata, la serata delle candele mi sembra, no? Della FIDAPA. Sì, allora è stata una serata importante in cui c'erano le massime autorità cittadine, nella persona del sindaco di Viterbo Leonardo Michelini e del suo eccellenza Monsignor Rellino Fumagalli, vescovo di Viterbo. Era una serata in cui sono entrate sei nuove ragazze, ricordiamo la FIDAPA è un'associazione tutta al femminile che promuove il cosiddetto genio femminile sia nel lavoro, negli arti, nei mestieri e nelle professioni. Quindi un appuntamento importante. La cena delle candele ha degli svolti sia simbolici, è stata presa anche per ogni tavolo, c'era un nome etrusco, quindi a legare sul territorio che appunto la Tuscia si lega direttamente agli etruschi, il sindaco e il vescovo hanno parlato direttamente del lavoro femminile, dell'importanza di creare opportunità vere per la donna e anche una minima, se non possiamo dire polemica, sul fatto che non è abbastanza incentivato, questo anche lo stesso vescovo lo ha messo in maniera molto soft, il lavoro femminile a parità di competenze e soprattutto di capacità. Quindi un'importante serata, tra gli altri è stata nominata appunto nuova FIDAPINA come si dice proprio precisamente, Antonella Sberna che lo ricordiamo è un'esponente politica, politico appunto del centrodestra del capogruppo di Forza Italia, quindi un legame anche che va oltre il lavoro. Concludiamo con lo sport, velocemente perché siamo andati fuori tempo. Assolutamente, allora la Viterbese è tornata alla vittoria seppur con il Terracina che è l'ultima in classifica, una boccata di ossigeno dopo, io l'ho chiamata personalmente la cura gli anni del nuovo mister che ha tra l'altro lasciato anche fuori due giocatori perché non si sono allenati adeguatamente, quindi a mio giudizio è una notizia positiva perché c'è una nuova ventata, perché la polemica era che il fatto dei giocatori che non prendevano con verve agonistica giusta le partite. La Flaminia Civita Castellana pareggia 2-2 in casa con lo Spoleto, rallenta la corsa ai play-off, però non mi associo ai commenti critici nei confronti della squadra di mister Puccica perché la squadra comunque che aveva mire solo di salvezza è in piena zona play-off e sta lottando, quindi un plauso alla Flaminia Civita Castellana che lo ricordiamo ha avuto anche dei problemi gestionali, quindi benvengano questi risultati. Bene, io ti ringrazio, ci do appuntamento a giovedì prossimo. Un saluto a tutti i radioascoltatori sui canali social New Tush per entrare in contatto con noi, grazie.